La trattativa Stato-Mafia, se c'è stata, non è imputabile all'ex senatore Marcello Dell'Utri e agli ex ufficiali del ROS, Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. Così si è pronunciata la Corte d'Assisi e d'Appello di Palermo. Secondo i PM, nei mesi delle stragi mafiose del 92-93, alcuni uomini delle istituzioni mediarono con i vertici di Cosa Nostra, l'allentamento della pressione antimafia in cambio di uno stop agli attentati. Tra questi Dell'Utri, che avrebbe continuato la trattativa nel 94, quando entrò in carica il primo esecutivo guidato da Silvio Berlusconi. La sentenza d'Appello cancella la tesi accusatoria, tutti assolti.